Ho visto quegli occhioni e dici, boh, qualsiasi sofferenza, fatica la si vince perché bisognava arrivare in spiaggia. Ricordo che aveva un bracciale in mano, che poi era il bracciale che indossava il collea che l'ha presa per prima, un bracciale religioso, una sorta di rosario. Guardandovi mi ha detto grazie, ti ripaga di tutto. La forza del mare, il vento che taglia il volto e quella bambina tra le braccia. Luigi Crupi, 42 anni, capo delle volanti di Crotone, rivede lo scatto simbolo della sera in cui, insieme alla sua squadra, salva 75 migranti a Isola Capo Rizzuto. La fune è retta da quattro persone, tre miei colleghi e un operatore a Croce Rossa. Oscillava così tanto che se una persona non la reggeva con le mani c'era il rischio che comunque ti spingeva, tranciava, tagliava. Io sono l'immagine di copertina ma il lavoro l'hanno fatto tutto loro. La paura davanti al mare che si gonfia e alla barca che ondeggia impazzita, ma in gioco, davanti allo sguardo di quella bambina, entra altro. Esce fuori il senso di essere padre, quindi non ci si pensa. Per me la bimba che abbiamo portato in spiaggia era mia figlia. Luigi e le difficoltà di un lavoro al servizio degli altri, con la vita che fa vivere storie intense, come quella raccontata da una foto. Quegli occhi di quella bimba che toccavano il cuore, quindi non so spiegarglielo bene, ma era qualcosa in più, un'umanità in più.